Garantire subito nella legge di bilancio fondi certi per il bimilenario della morte di Ovidio. Il sindaco di Sulmona, Navaria Cassini, si affida alla rete sociale di Facebook per lanciare un appello alle senatrici Paola Pelino, Forza Italia, Stefania Pezzopane e PD. Alle prese entrambe con iniziativa legislativa ad hoc per Ovidio 2017. Il testo di legge unificato attende il parere della Commissione Bilancio al Senato, dopodiché l'iter prevede il ritorno nella Commissione Cultura. L'ostacolo più impegnativo sarà superare l'approvazione in sede deliberante. Il primo cittadino nel frattempo è preoccupato per la tempistica, dato che la legge di bilancio 2017 arriverà al Senato dopo il fattidico 4 dicembre, giorno del referendum costituzionale. Le parlamentari abruzzesi hanno entrambe assunto iniziative legislative ad hoc per il riconoscimento di diversi milioni a favore di una legge prebimilenario che tutti speriamo vadara a buon fine. Ma di fatto ad oggi c'è ancora incertezza nell'esito, nella tempistica e nel quantum, fa notare Casini. La richiesta del sindaco a Pelino e Pezzopane è di garantire subito 300-400 mila euro nella legge di bilancio per Ovidio 2017. Sarebbe un segno tangibile e concreto, oltre ai campanili, per garantire un risultato molto atteso da tutta la città, conclude Casini.